il summer camp sono un'occasione da ragazzo per divertirsi durante l'estate allenarsi durante l'estate che è un periodo importante per migliorare i propri fondamentali se ricordo le mie esperienze sono momenti in cui ti puoi confrontare con altri altri ragazzini magari di realtà diverse che vengono da tutta italia come allenatore è un momento di confronto perché spesso ci sono allenatori anche qui provenienti da diverse realtà un'occasione di miglioramento è un'occasione come per un ragazzino per un giocatore di non fermarsi mai di pensare alla pallacanestro tutto l'anno 24 ore al giorno magari per una settimana due settimane non possiamo che essere contenti di come sta andando la prima edizione i ragazzi stanno divertendo hanno attività organizzate tutto il giorno tra basket piscina arrampicata e trekking abbiamo 17 allenatori impegnati sui campi alcuni facenti parte del settore giovanile di aquila basket altri provenienti dalle società affigliate a dolomit energia basketball academy e altri ancora da società esterne venuti a lavorare a confrontarsi con un ambiente di alto livello come è quello di aquila basket e dolomit energia basketball academy noi dello staff della prima squadra e i giocatori della prima squadra della serie a di aquila basket siamo contenti di venire qui all'aquila basket camp perché è un momento per testimoniare raccontare cercare di trasmettere quei valori che animano la nostra società cercare di far capire quanto è importante per noi il fatto di aiutarsi innanzitutto tra compagni di squadra e sfruttare ogni momento per migliorare provare a essere un giocatore migliore ogni giorno aggiungere qualcosa proprio bagaglio anche l'estate quando è un periodo che solitamente si pensa si possa riposare invece qui i ragazzi sono entusiasti di apprendere di allenarsi di stare sempre con la palla in mano è un vero piacere per noi trascorrere il tempo insieme a loro tutto questo è aquila basket summer camp è un vero piacere per noi 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 Grazie a tutti.